In realtà qualche anno fa ci sono stati dei grandi, ma uno soprattutto, che per tanti anni, e praticamente gli abbiamo ottenuto il posto, perché come si dice a volte ritornano, è per me un piacere, perché è un amico dagli esordi, da oltre 30 anni, quindi abbiamo diviso tante cose, ma soprattutto una grande amicizia, e quindi dopo credo che 30-40 anni sia nato lui insieme a Mirigliani, per quanto riguarda Miss Italia in Toscana, hanno più hanno meno, anche se lui li porta meglio perché diciamo il nero snellisce, è un piacere averlo qua oggi e vi prego di accoglierlo con un grande applauso, strappatevi i capelli, il signore va bene già così lo vedo predisposto. Allora, è venuto a trovarci niente meno che Carlo Conti! Eccolo qua! Maestro! Buonasera! Buonasera! Buonasera Carlo! Buonasera a tutti! Non stilo eh, non stilo, non stilo! Ecco l'uomo! State bene? Un uomo che entra in tutte le case senza chiedere il permesso grande gioia di tutti noi un pezzo del nostro canone, come dire? Eh sì! Allora, innanzitutto permettemi di salutare i concittadini, visto che io ho la cittadinanza onoraria di Casciana Terme e della quale sono particolarmente orgoglioso quando poi ho fatto Misti Italia hanno tentato di darmi anche quella di Salso Maggiore ma non l'ho voluta per rispetto a Casciana Terme e qualche annetto che non venivo da queste parti però è tutto uguale, questa è la cosa bella che ci sono delle cose nella vita che restano ferme e tra queste c'è anche questa meravigliosa piazza, questo calore, questa energia che ogni anno si vive qui da 40 anni a questa parte la prima volta che sono venuto qua, arrivavo da Roma, Mattei presentava, io arrivavo e conducevo con lui, Alberto Mattei un bel tanto che ormai è diventato un grande professore, un grande ginecologo e rimasto nell'ambiente qui in qualche modo nelle misse sì, no, no, nel senso assolutamente ovviamente ma là in fondo mi sentite? sì! ma devo capire perché mi sembrate un po' addormentati da quella parte fate un applauso solo voi da questa parte ora solo voi da questa e sono molti di meno, eh? e sono molti di meno voglio capire, siete svegli, sì? allora fatemi capire, vai, un bel applauso no, 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 no attenzione, svegli, un bel applauso no, no, no vai, un bel applauso uno, uno vuol dire tanto ma, uno un bel applauso due belli applausi tre belli applausi quattro belli applausi cinque belli applausi sei belli applausi sette belli applausi oh, nell'87 siamo arrivati a 9848 vogliamo battere il record? no, lo sapevo il record rimane fermo lì va bene, allora sono tutti svegli stavo dicendo qua tante serate e tante emozioni abbiamo fatto la gavetta tante serate mi piace ricordare soprattutto una persona che è Ugo Mattioli e quarant'anni fa arrivò qua e propose alla loro amministrazione ma più forte l'applauso a Ugo eccola, guarda Ugo, quarant'anni fa ero da queste parti le prime serate le presentava si ho detto Matti ma le presentava anche Gianfranco Donofrio e poi è arrivato questo ragazzino di color io, insomma un po' scuro e tutte le stati sempre come sei nero boh come sei abbronzato ora l'hanno detto è mio figliolo quest'anno è arrivato come l'hanno visto e hanno detto Mattioli sei dei ricercatori insomma si ramandano certe cose sì, sì, sì non ho fatto neanche la prova del bianco ho capito dal colore che era mio fanno la prova del della melanina sì, vuoi un'altra cosa ma non si può dire no, ma per carità tra l'altro un grande pescatore lì forse ti batte sì, ma non pesca con quello pesca con quello vabbè, prego l'ha capita solo la signora guarda vabbè e stavo dicendo tante emozioni tante persone alcune non ci sono più e quindi come Ugo mi piace ricordare con altrettanto applauso Niki Giustini e Andrea Cambi che tante risate hanno fatto fare su questo palcoscenico e poi i comici che si sono alternati qua come come Graziano Salvadori come Gaetano come aiutare Laureli come Militello e che mi mi piace insomma tanti tanti tante avventure è stato un trampolino importante per me perché ho imparato a fare le scalette ho imparato a condurre mi sono trovato poi a fare Miss Italia e tante altre belle cose ma questa piazza rimane sempre rimarrà sempre nel mio cuore ci tengo a dirvelo e a ringraziarvi per l'affetto che avete sempre dimostrato mi piace ricordare Fernando Capecchi Gerry Stefanelli che è dietro le quinte Alessandro Ferrari Giovanni Schupa Pellicole Lozio Renzo Fabrizione Giovanni Rastrelli che Schupa Pellicole Rastrelli sono 25 e c'è la numero 26 Miss Bagno Arripoli Leonardo Pieraccioni ecco lo sapevo e le disgrazie non vengono mai sole eccolo prego la pedana scusa Raffaello lo hai premiato tu io non ricordo sapevo che la giuria c'aveva un breve particolare ho pensato che ho pensato di darlo io ok per la grazia e l'eleganza buonasera Miss buonasera io non ho leva la musica leva la musica leva la musica leva la no è perché c'è la sua cucina in console sotto la console io non ho un buon ricordo di Casciana quando venivo mi davano 150 mila lire la cucina l'ho comprata dopo se aspettavo Casciana tieni amore la mia figlia si è la mia figliola potrebbe un lapsus che cazzo ridi dei bacilli subito la mia fidanzata potrebbe essere la mia figliola a parte gli scherzi sono felice sono contento di essere qui a Casciana Terme con tutte queste ragazze avevo paura che passasse di moda questa cosa del piacere della donna perché sai adesso voglio dire ci abbiamo anche un po' fluido un po' fluido tu sei un po' fluido ma insomma qualche cosa con il gennaio tu l'ha fatto stesso punto io sono felice Gorini come stai? un applauso anche a Gorini Gorini Torino Gorini Gorini a Ponte Egola senti tu fa anche la pubblicità dammi 150.000 dite che mi davano Gorini oro è la gioielleria più buona di mondo cioè se tu entri fanno una rapina ti dà tutto non è che dice no veramente scusi che c'entra la rapina lui ti dà ogni cosa che è carino tenta l'applauso hai visto il tuo figlio l'ha tentato l'applauso Ma ti ricordi, Carlo Conti, quando veniva a presentare qui all'inizio, faceva anche il V presentà a semafori, faceva le prove davvero, poi finalmente è stato incluso, ce l'ha fatta ed è veramente una persona eccezionale. Io ci sono tre motivi, anzi quattro, forse no, ce ne sarebbero quattro, ma loro sono diventate tre, gli hai già detti, il primo è stato l'applauso per il nostro Ugo Mattioli, poi il nostro Gerry che dice che con quest'anno finisco, sono venuto a verificare che finisca davvero di fare l'organizzatore perché non se ne pone più, e poi Cure to Children, dove siete? Questo è un applauso a Cure to Children, applauso forte! Cure to Children, vuoi che ti faccio una foto che ce l'hai solamente te? dammi la macchina no 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 oh sto parlando a te te faccio la foto che c'è te col telefono no 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 lo sapevo ho messi video ma Leo viene tutto nero dai non è il suo è il padre alla moglie dice a me ma le nere quelli di Conti no è il mio che c'è po' la luce lì dentro Q2 Children che è questa fondazione che io seguo da anni è una fondazione che mi piace dire che piglia parte faccio, non lascia per la strada niente e questo è il terzo motivo, il quarto motivo ce lo siamo dimenticati quando si veniva qui giovani queste potevano essere le nostre presunte fidanzate, non sono nemmeno figliole, sono nipoti quant'anni hai te? 20, potrebbe essere la tua nipote fatta tardi tra l'altro perché te hai 40 anni e tu presenti, facciamo due conti, le 40 anni che lui presenta ce n'ha una 77 ma che è 77? sì perché voi di colore sembra meno ma non gli dai mai un'età a canigia, cucurucu sono tutte le gente, sto dicendo tutte delle cazzate che remenno ma io confido signorina, non faccia vedere questo video a nessuno, vuole anche lei una ripresa? ma che cazzo di foto fai? vengo più che... no, allora, senti tutti, no, aspetta, no, devo dire una cosa perché a me mi ha fatto impazzire allora, giustamente, guarda, andò al parcheggiato e l'ho della 500 dicevo puttanate 35 anni fa ma non è che ho cambiato, guarda, la signora me fuma meravigliosa, la signora, quante ne fuma, signora? Ne fuma tante? eh? Non lo vuole dire, eh? ma no, voi non la vedete? una signora meravigliosa che sta fumando e mi guarda come dire ma chi l'è, Aldo Giovanni o Giacomo? non li gargo Aldo Giovanni Giacomo no, no, ecco, io volevo dire, al prossimo dei comici allora, ci dice, ehm, ci dice Gerry venite, venite, veniamo tutti e tre io, l'estracomunitario e Giorgio Panariello Giorgio Panariello, chi è l'altro? eh, vengo, 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 vengo oggi non... no, lo sapete perché non è venuto? no, non dirlo no, lo devo dire, perché gli si telefonano è serio? pensate come, come, che, 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 proprio, che cascone che ha fatto nella vita, anche Panariello era intelligente, normale gli diceva un giorno, diceva un giorno se c'era il sole, buona notte se c'era la luna ora, sai perché? Ha detto, no, non vengo, mi sono morti due ulivi no, erano limoni limoni? Le ho guardate ma come ho guardate? ora, ora io vorrei fare tanto ho visto di bambini non ce ne sono tanti vorrei fare un video che vorrei postare poi per Giorgio? no, sì, allora, al tre dovreste dire una cosa, tanto ripeto, non ci sono tanti bambini dovreste dire, al tre vaffanculo te e i tu limoni no, no io li dico, io dico Giorgio ti saluta Casciana e voi vaffanculo te e i tu limoni ziti, 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 ziti no, perché sapete, io sono venuto se raccomandato dicendo, no, siccome io sono venuto qui ovviamente gratis, posso dire che cazzo voglio mi piace al 50 mila lire dovevo stare simile un pochino anch'io allora io dico Giorgio ti saluto Casciana ti saluto e... aspetta perché se non si apisce proviamo, proviamo a vedere se si apisce facciamo una prova Matteo tra patigliore bambini non ascoltate Giorgio ti saluta Casciana vaffanculo te e i tu limoni salutano anche i limoni vaffanculo pezzo di me allora allora io volevo prima di andare via prima di salutare prima di far di lasciare la serata in mano a questi conduttori professionisti invece noi raccattai dalla piena volevo fare un in bocca al lupo a tutte queste meravigliose ragazze però però una cosa scusa eh noi andiamo via adesso però loro magari vi faceva piacere sul finale quella che diventa Misto Scala fare la foto con noi e allora facciamo no siccome noi ci sa ci scati catetere tra l'altro per cui si deve andare a casa è semplicemente un piccolo aggiotto no, facciamo una cosa prendiamole tutte allora facciamo una cosa per i fotografi esatto piglia la fascia ci si fa la foto con tutti mi dà un attimo la faccia di Misto Scala una si dominerà una la saranno fotografi state lassù laggiù voi o dovete salire per la foto proprio ufficiale capito? dai come è cresciuto l'essere ragazzi piglia la fascia eccomi eccomi permesso? allora la prima signorina bella venga signorina voi dovete ovviamente usannare come se diventasse Misto Scala lei così alla fine hanno tutte la foto con lui con tutti e 25 certamente però ci vediamo giustizia come si chiama? ma si fa buio non ti preoccupare ma che cazzo ci fa domani non stiamo lavorando in vita tua ora papà vuoi andare domattina a lavorare allora a chi dedica questa vittoria? a mia madre che per me c'è sempre stata carina anche la mia anche troppo mi ha rotto anche i coglioni anche sera foto 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 grazie applausi avanti la 2 ma non si può ragazzi vai numero 2 oh secondo me tu vinci te ma non lo dire ora lo dici a tutte Anamena te canti anche a Sanremo a chi dedichi? a meno metti la modina dai zitto a chi dedichi? Francesca Poltri Poltri? Poltri Poltri poltrisce a chi dedichi questa vittoria? a me stessa e a mia madre a sempre la mamma ma i babbi ce l'avete? o va fatto? non si conta nulla 3 la numero 3 avete fatto la foto? ma non state mica bene come ti chiami? mettili il microfono davanti chiara pomeriggio? che lunica osa di no questa si è capita solo in due 3 no l'ha capita l'ha capita lui guarda lui ho fatto un cignor ti ha detto madonna questa è buona questa battuta è buona ma poi scusa ma che siete nei vestiti a vedere visto? scalaosi lui ha detto alzati un attimo un piede Leonardo digli qualcosa mettiti sulla seggio senza scarico ma ho messo in vestito bene lui stasera ragazzi come ti chiami? pomerani chiara a chi dedichi questa vittoria? a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso la mamma? anche lei grazie complimenti applauso la quattro ma gli applausi non devono mancare sono tutte lette missi come ti chiami? Serena Sestini a chi dedichi questa vittoria? alla famiglia e fidanzato ce l'hai? c'è c'è uno zio grullo ce l'hai? c'è ci sa tu vedi vedi uno zio grullo c'è sempre grazie complimenti applauso allo zio grullo scrivete cinque allo zio grullo dedico la vittoria come ti chiami? Giulia Giorgi e quant'anni hai? diciotto a chi dedichi questa vittoria? a me stessa e alla mia famiglia bene grazie numero sei madonna fate le belle le foto fate le belle tutte credibili credibili come ti chiami? Nicole Ninci a chi dedichi questa vittoria? non si può dire alla famiglia non si può dire a me stessa a me stessa neanche non si può dire devi trovarlo un pochino più soprattutto non devi dire alla pace nel mondo a chi la dedichi? alle mie amiche che sono sempre vicine a me e ci vorresti anche io vicino alle tue amiche grazie arrivederci sette oh le applausi come ti chiami? India Piccinetti India Piccinetti da dove vieni? a Badia San Salvatore che tempo è a Badia San Salvatore? bruttino come mai? chi c'è qui di presente? chi c'è presente qui? chi c'è qui di tuo parente presente? a Badia? i miei familiari dove sono? dove sono? dove sono i familiari di questa bellissima ragazza? eccoli là a sinistra a sinistra non si sapeva allora l'ho chiesto perché c'avete la macchina di viato di sosta vanno già fatto 180 euro che è quanto pigliavo io per tre serate Leonardo Carlo scherzateci poco con lei perché fa Taekwondo e che cazzo ce ne frega non si sa nemmeno che sia Taekwondo arriva la 8 8 8 come ti chiami? Sofia Pambrini da dove vieni? da Lucca e che fascia avevi vinto precedentemente? nessuna cosa ha fatto lui a Lucca? cosa ho fatto io a Lucca? no non è no G non mettete in difficoltà G aggirà aggirà aggirato aggirato un film bravo come è il titolo? Lucca come si intitola? Lucca Lucca Maremma Mucca grazie grazie arrivederci numero 9 guarda lei ragazzi lei la ci rete parecchio eh io te o lei dice questa questa perché lo sapete quanto dura è stasera no è una chiappetta di nulla le tre e le quattro eh signora prepari le Malboro proprio la stecca dura fino alle tre e le quattro lo sapete perché c'è tanto guardate anzi facciamo un applauso anche alla Croce Rossa che non ha mai misericordia tutti ne svengono dai 18 ai 22 vince solo chi resterà per ultimo a chi dedichi vai a chi dedichi allora mia figlia quanti anni c'ha la figlia? fa tre anni domani che carina e al babbo o l'hai fatta come ceppetto come ceppetto e tu ai genitori alla figlia? la mia figlia ma c'è qui la figlia ai tre anni? sì dov'è? penso laggiù vediamo come si chiama? zitto zitto come si chiama? Eva 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 dove sei? dove sei Eva? Eva pensa pensa quanto gli costerà di psicologo in sto momento a Eva quando tutta casciana la cercava Eva dorme? 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 che fa? eh? dormiva ha detto se si fa più piano perché dorme va bene tutto sottovoce va bene sottovoce dorme stai tranquilla levati la fascia e darla a quell'altra madonna io non credo mia solo ora vedo e son tante qui si fa a mezzanotte se la fanno da buffonare vieni 10 a chi tedi 10? come ti chiami? Agatha Boddy vai Boddy 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 vai lanciati Boddy fa una tedia che tutti devono dire madonna la Boddy e la fece grossa la tedia eh ma che rintrona la Boddy ragazzi vai Boddy lasciati andare tira la bomba Boddy la dedica a voi ma che dovevi dire al misfacciatore a qualcosa di più Leo vai Boddy ciao Boddy ciao la undici vada e pittura la cia la undici ragazzi è finta è vero è vero come ti chiami da dove vieni? where you come from? undici ho detto da dove vieni undici si si da Prato Prato e cosa fai a Prato? io lavoro in un'azienda di integrazione alimentare e che lei? eh? integratori 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 alimentari e chi va in palestra li conosce lei ottimo ma che poi sta zitto ma gli sta a chi te le... a chi dedichi? a chi dedichi? alla minonna è viva? è vivente ha 96 anni e sta meglio di tutti noi ma quello è pomazio di testa sicuramente ma è qui stasera oppure è attaccato a un ispiratore? è a casa è a casa? no sta bene la mia mamma è 82 sta meglio di andocene la mia 37 rompe coglioni molto di più ma dai giacchettina a cretino mi sono messo ragazzi grazie vai il dodici where you come from dodici? Arezzo a chi te di? Arezzo è vero che Arezzo la fotografia si chiama Arsumiglio? sì è vero mi ha dato grande soddisfazione? chi dedichi? ha fidanzato come si chiama? Carlo Carlo bellissimo nome dove hai fidanzato? non lo sai ma approfittavo per andare con l'altra 14 te senza numero? indolente l'hai perso? dove è andata il numero? il 13 dovrebbe essere lei il 13 l'ha perso l'ha perso il numero l'ha fumato come ti chiami? che numero hai? Diana Copilizza numero 13 giura davvero il 13 giuro di dove vieni? Iacubizza Montecarlo Luca ma perché non mi guardano mai? io parlo e guardano solo te Iacubizza dove vieni? Luca Montecarlo? Montecarlo Montecarlo di Luca si dedica a me stessa va brava ciao Iacubizza 14 chi gli dice qualcosa a me? a chi te ha di questa vittoria? 14 vai la foto attenzione foto la mia famiglia e il mio ragazzo e c'è qui il tuo ragazzo? è lì è lì a me se lo controlla vedi? quant'è? quant'è che ci sta insieme? oggi 8 mesi e lui invece quanto dice? no lui dice tante cazzate io darei subito a lei la vittoria di Miss Toscana 15 facciamola 2 a 2 e qui non si finisce più eh vai siamo quasi alla fine dai 15 dove vieni? Firenze Firenze dove? Napoli Napoli cosa fai a Firenze? studio ingegneria ingegneria e tu preferireste fare una carriera da ingegnere o da modella? tutte e due tutte e due sarebbe meno male ragazzo ho trovato un'ingegnerina io gli rifoffa il garage diciamo non c'è bisogno io gli rifoffa a chi dedichi? alla mia famiglia bravo la sua famiglia vai numero 16 16 siamo a finire 25 no ma gli applausi alla Miss Toscana vai sul finale 25 mi aspetto grandi cose da qui Federica Navari da Petra Santa fai un discorso cos'è? fisico capito? vai prepara ci ha avuto tutto sto tempo 25 da dove è? che è Trasanta? che è Trasanta e cosa fai nella vita? lavoro come commessa e cosa ne farai di questo sai che quest'anno Miss Toscana chi vince prenderà anche un premio cosa ne farai di quel premio? e sarà un orgoglio per me ma se non tu sai che lei premio e che tu dici? brava grazie un saluro pisato vai lei ride ride la 17 ride 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 come ti chiami da dove vieni? Teresa Tenese 28 anni Montemurlo provincia di Brava ma tutte belle Montemurlo chi va Montemurlo torna a grullo come è lei quella cosa? io volevo mettere in mezzo brava a te no a te no la mia famiglia no e il mio spacciatore e invece ecco brava noi lì in mezzo ci si metterebbe tanto con i piedi vai 18 18 quant'anni hai 18? 22 cosa fai nella vita 18? i parenti tuoi cosa studi? vengo da Soiana da? a Soiana non esiste Soiana no non esiste c'è il Soiana Fans Club ma scusa ma ma perché allora non si fa a Soiana i prossimi anni? sono tutti di Soiana ma a Soiana c'è 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 ma dov'è? Soiana è? provi comune di? terri terricciola bravo a Soiana vada avanti i soianesi eh beh vicino cosa? a chi dedichi la la tua vittoria di Soiana? in primis a me stessa e poi a Babbo e mamma che hanno fatto tutte le trasferte con me che bellina ma ti stai trasferta da Foglianacca c'è la terra ah tutte le l'artre ha detto 19 19 ma che meraviglia come ti chiami da dove vieni? poi si rincomincia eh dall'uno eh vieni da Pisa vieni da Pisa da Pisa al Pisano sai che io facevo un personaggio del Pisano del Pisano capito? dicevano noi a Pisano di Ponte Egola personaggio di Ponte Egola noi di Ponte Egola ci si conosce a Ponte Egola si esce fuori la prima sera a Ponte Egola ci si innamora a Ponte Egola ci si sposa a Ponte d'Era e qui è andata bene che qui a Casciana caro amico di Ponte Egola non hai trovato i semafori? no questa non la dico no va bene ed è nello spettacolo a chi dedica? a Ilenia Corti è un'ex concorrente di Miss Italia che grazie a lei sono qui ah hai visto è una cosa bella o una cosa bellissima ah bene è la tua fidanzata cosa? no assolutamente è una mia amica va bene ma c'è stasera? purtroppo no purtroppo no bene vieni cara numero 20 che ti chiami come ti chiami? Sofia Bianchini vieni da? Lammari 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 c'è qualcuno di Lammari? no Lammari Lammari la famosa Lammari di Tupan Lammari a chi dedica questa vittoria per la bimba? no mia mamma e mia sorella davvero? si va bene si chiama la sorella? Emma vieni Emma di Lammari Lammari come si chiami? Martina Comparini di dove vieni? da dove? da Fiorentino aspetta aspetta se ci fossero adesso appare davanti a noi un 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 grande che tipo come si chiama? pulisca no no quello nella cosa nella genio della lampada strofini la lampada arriva in genio tre desideri zitti zitti qui si gioca la fascia eh tre desideri allora affermarmi nel mio lavoro lavoro nel campo della ristorazione bene essere più sicura di me stessa due e che finisca presto sto momento esatto bene no 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 fai dire il terzo che mia madre sia sempre in salute beh questo è bello applauso applauso lo sentivo io che c'era qualcosa ovunque strappava un applauso oh oh i babbi non li cagano nessuno no i babbi non li cagano nessuno davvero mai questo fatto è incredibile gori te non li devi fare entrare le mamme che vengono senza babbo dici dov'è babbo all'ammari valla a chiamare eccolo numero 22 come ti chiami mi chiamo Gaia Corvinelli e vengo da Vinci non ho capito il nome Gaia Gaia e vieni da Vinci cosa fai nella vita? studio e lavoro e che cosa ti ha spinto a partecipare al Miss Toscana? tante persone me l'hanno consigliato ma a te non lo volevi fare? no no si si no la dedica la dedica a questa vittoria a chi? ai miei genitori una persona speciale chi è la persona speciale? non si può dire ci do una petana in culo di chi è la persona speciale no non mi fare incansare di chi è la persona speciale non si va via se non dici chi è la persona speciale persona speciale persona speciale con il limone di panariello non si può dire non si può dire ti strappo la fascia ma è un nome al caso non ci frega non si può parlare di persone che non sono presenti ma come mai ma se lui ha parlato di panariello gli ha fatto panariello ma dimmi una cosa 22 è roba d'amore roba d'amore? si un po' si un po' che vuol dire? no no c'è un un po' è un segreto un bacino ve lo siete da si è una cosa losca una cosa losca losca via 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 no 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 ma che non lo mettere in difficoltà ma l'osca lui è sposato no e e lui è un prete no è uno dei pd no no più l'osca del pd sì è 5 stelle eh cosa ha fatto cosa ha fatto cosa ha fatto perché? chi può dire? chi può dire? solo nome? nome? assolutamente! no è più grande o più piccolo? è più grande di quanto? un po' quanti anni? no non si può sapere l'importante è che siano tanti 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 se ti garban vecchi segna 3 3 va 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 via va vieni vieni 23 22 33 23 eccola la maria anche te la maria in dove sei? di prato di prato che cosa fai a prato? lavoro c'hai un amore losco anche te? no ce l'hai il normale? il tuo fidanzato? come si chiama? Andrea quant'è che state insieme? un anno farete bambini? sì davvero? Andrea si è avvisato voglio una femmina eh eh hai capito la femmina ma che cazzo si fa la femmina Andrea preparati Andrea vuole la femmina 24 le ultime due vieni applauso alla 24 che viene da viene da? Carmignano in provincia di Prato eh già è buono ma che cosa c'hai scritto sulla spalla? eh ovunque vada sarò la tua forza non ho capito ovunque vada sarò la tua forza cioè ovunque tu vada te sei la forza di un amore ovunque vada la vita sarò la tua forza no io non ho capito anche Panariello che lo abbiamo mandato è la sua forza vada sarò la tua forza ah ovunque vada ecologia ti posso aiutare? sì ma tu gli hai fatti bene gli esami perché ovunque vada la vita tu sarai la tua di mio fratello perché lui ce l'ha uguale a me capito? ah è un pandan quanto vanno preso a fare questi con colorio ah ecco no non indagiamo a chi dedichi la e alla mia famiglia e alla mia famiglia e alla forza che ti accompagna e alla forza che ti accompagna grazie ma richiamiamola 20 perché la 20 25 ma che 20 qual è quella con il non me lo ricordo più con la la 22 vai te tu vinci la fascia sei preparata miss strappo vai leonardo l'ultima la numero 25 viene da la 25 l'ho già preparata da? da Lara? Carrara l'ho già preparata finirà con l'applauso che ci porterà via noi vi ringraziamo già prima prima fagli dire a lei non si sauta per venire ha funzionato certo e cosa devo dire? cioè è mezz'ora e ci pensi a chi dedichi la vittoria? al mio cuginetto Mattia che nascerà tra poco e allora non ti sente mia i cazzo non gli frega a Mattia vai dilla alla nonna la nonna dai una nonna viva come si chiama? Armanda e Roberta ah Armanda e Roberta Armanda si chiama lei? Armanda non Armanda ah ho capito Armanda ma richiamiamo un attimo la 22 guarda che io fate dove sono i giudici? i giudici voi siete giudici? ecco fate vincere la 22 la 22 è moderna capito? c'ha il fidanzato la fidanzata e tre amanti sotto il letto che li tira di una certa età si lava le scarpe e li mette giù io la 22 non la butterei via va bene ragazzi a parte gli scherzi grazie io vi volevo salutare vi ringrazio da averci sopportato abbiamo abbiamo fatto questa no 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 aspetta aspetta si fa un conto finale e tutte le volte che veniamo qua ci prende e non è poco dopo tanti anni dopo più di 30 anni ci prende sempre quello che noi chiamiamo a Firenze i bischero i bischero i bischero non ci ha abbandonato e noi siamo venuti a raccontarvi che siamo ancora in quella fase di bischero speriamo che duri ancora e io aggiungo per fortuna perché vuol dire che siamo ancora veri toscani e veri grazie a tutti grazie a tutti voi che hanno lavorato in questi anni dietro le 15 hanno fatto grande questa manifestazione agli amministratori e sindaci che si sono alternati e soprattutto ai concittadini grazie a Casciana Terbe Leonardo Pieraccioni ciao buonanotte continuate buon lavoro grazie ciao grazie a voi grazie a voi grazie a voi vieni qui per favore come fai non puoi portarla ciao aspetta verifichiamo sono andati via sono via e vabbè dai grande levante operazioni facciamo un altro grande applauso a due meravigliosi artisti